Musica Pochi secondi a mezzogiorno, una buona giornata dagli studi di TG2000 Subito i nostri titoli, operazione antiterrorismo nel cuore di Venezia Tre persone sono finite in manette, secondo gli inquirenti progettavano un attacco sul ponte di Rialto Ad Alatri procedono le indagini sul pestaggio che ha ucciso Emanuele Morganti Ieri la fiaccolata in memoria del giovane contro le omertà, oggi l'autopsia sul corpo del ragazzo Dio piange per noi se ci allontaniamo dal suo amore, così Francesco nell'Omelia del mattino a Santa Marta Guardiamoci dall'inseguire fantasie e falsi idoli l'invito del Papa Dunque, in apertura il blitz antiterrorismo che ha permesso di sgominare a Venezia una cellula jihadista Tre persone arrestate meditavano un attacco contro uno dei simboli della città lagunare Il ponte di Rialto La cronaca con Federico Plotti Alla notizia dell'attacco terroristico di Londra avevano esultato E volevano fare anche loro la stessa cosa a Venezia In un luogo simbolo e sempre affollatissimo di turisti come Ponte di Rialto Tre cittadini kosovari, in Italia con regolare permesso di soggiorno Due lavoravano come camerieri in un ristorante Progettavano un attentato nella città lagunare Ma non sapevano che da diverso tempo erano seguiti e sorvegliati dai carabinieri Quello che si dicevano nelle tante telefonate fatte I loro contatti, i luoghi e le persone che hanno frequentato da quando erano arrivati nel nostro paese Tutto è adesso nelle mani degli inquirenti Farsi saltare sul ponte di Rialto, provocare centinaia di morti Sarebbe stato un colpaccio, dicevano al telefono Hanno scaricato da internet manuali di combattimento corpo a corpo E anche di tecniche per l'uso dei coltelli Ma a che livello di preparazione fosse il piano però non è ancora chiaro Soggetti pericolosi e forse anche armati Per questo al blitz della scorsa notte in pieno centro di Venezia Insieme ai carabinieri hanno partecipato anche i reparti speciali dei NOX della polizia Oltre all'arresto dei tre è stato disposto anche il fermo di un minorenne Kosovaro anche lui E sono state effettuate 12 perquisizioni Non solo a Venezia ma anche a Mestre e a Treviso Adesso torniamo ad Alatri Per gli aggiornamenti sull'omicidio di Emanuele Morganti Pestato a morte nella notte fra venerdì e sabato All'esterno di un locale Dai verbali dei testimoni emergono nuovi dettagli Sulla lite in cui è stato coinvolto suo malgrado e senza motivo il ventenne Ieri sera nella cittadina una marcia silenziosa per ricordare Emanuele Fabio Bolzetta La medicina legale oggi certificherà le cause Che hanno provocato la morte del ventenne Emanuele Morganti Ma ad Alatri e nell'opinione pubblica di un'Italia tonita di fronte a tanta ferocia In pochi hanno dubbi Se non il pestaggio e quell'oggetto scagliato su di lui Che cosa ha posto fine alla vita di un giovane dopo un diverbio per la fila al bar di una discoteca Restano da mettere però a fuoco le singole responsabilità Aggiungendo che uno dei due fermati con l'accusa di omicidio volontario Era stato rilasciato lo stesso giorno della violenza Dopo essere stato arrestato per possesso di dosi di cocaina Ora sono entrambi in carcere a Reggina Cieli Ma separati e guardati a vista Si temono infatti minacce di altri detenuti E se a Roma oggi viene eseguita l'autopsia Sul corpo dal volto irriconoscibile di Morganti La cittadina in provincia di Frosinone Si risveglia oggi dopo la fiaccolata silenziosa che ha salutato Emanuele In 2000 hanno sfilato Tanti ragazzi ma anche anziani e famiglie con bambini C'è un'aria di tristezza, di stupore e di smarrimento Dichiera il sindaco di Alatri Giuseppe Morini La città è impietrita e disorientata A ferma Questa è stata la seconda marcia Che si scontra però con chi ha alzato un muro di omertà C'è chi non è intervenuto E chi sapeva ma ha taciuto Ma intanto a terra per molti restano rabbia e voglia di vendetta L'avvocato Giampiero Vellucci di Frosinone Intenzionato a difendere i due bodyguard del locale È stato vittima questa mattina di un'aggressione nel suo studio Ci spostiamo a Castellaneta vicino Taranto Dove si sta concludendo proprio in questi minuti L'ampia riflessione condotta da lunedì Dalla Caritas italiana sui disagi del paese Sulle risorse di speranza racchiuse negli italiani Denunce, idee, progetti concreti Tutto in diretta con Nicola Ferrante Per noi a Castellaneta Nicola Sì, buongiorno Barbara Non soltanto cibo e vestiti La cronaca ci consegna una umanità dolente E piena di disagi e di sfide da affrontare La Caritas risponde con un rilancio dell'impegno Nell'ambito della Caritas Stamattina i lavori arrivano alla conclusione Quindi ultime battute di questa maratona di quattro giorni a Castellaneta La relazione finale del direttore Monsignor Francesco Soddu In questi minuti la Santa Messa conclude proprio i lavori Un approccio nuovo La Caritas punta a questo E questo un po' il senso dei bisogni e delle povertà Da affrontare con un metodo che intende abbracciare l'umanità In tutte le sue sfide quotidiane Alle mie spalle ci sono in qualche modo il senso dei lavori di questi giorni Sono 70 di questi manifesti che vedete E che sono la sintesi dei lavori di gruppo Mi avvicino per esempio a questo Che è quello dedicato al tema dell'occupazione Lavoro, implementare, che dice è l'urgenza di oggi Implementare la collaborazione con i centri per l'impiego Ma ce ne sono tanti di questi Sono 70 in tutto L'ambiente, i nuovi stili di vita, la comunicazione Per esempio molto successo ha riscosso il gruppo sui padri separati Insomma come stare vicino ai padri che magari anche hanno perso il lavoro E che vivono il disagio della separazione in famiglia Basta soltanto con la buona volontà Ci vuole competenza anche nell'amare Questa è la risposta della Caritas Ma da dove ripartire? Quali le priorità? Il futuro insomma In qualche modo riparte con un rilancio Oppure no? E se come? Lo abbiamo chiesto proprio al direttore della Caritas Monsignor Francesco Soddu Che ci ha risposto così A partire dal titolo del convegno Uno sviluppo integrale dell'umano Che poi è il nome del nuovo dicastero Voluto proprio da Papa Francesco Ascoltiamo la sua risposta Poi la linea torna a Roma Quando lo abbiamo pensato Avevamo subito raccolto Quello che era il risultato di un percorso del Santo Padre Che poi è confluito con la fondazione di questo nuovo dicastero Per lo sviluppo umano integrale Abbiamo semplicemente preso questo titolo E lo abbiamo individuato come contenitore del nostro lavoro futuro Un futuro che vede sempre l'uomo al centro Non la tecnologia Non il progresso vissuto così Come generalmente si intende Ma veramente uno sviluppo umano integrale Due elementi colpiscono delle sue conclusioni Insomma la direzione è quella di rafforzare capillarmente Insomma la presenza della Caritas E promuovere lo sviluppo delle comunità Questo da un lato insomma traccia l'impegno Dall'altro mette in luce quanta fragilità in questo nostro tempo Esatto ed è probabilmente la ricchezza di questo convegno Noi abbiamo voluto costruirlo come diversi tasselli di testimonianze innanzitutto Ma che in sostanza non sono altro che il bel lavoro che viene costruito Che viene portato avanti giorno per giorno dalle diverse Caritas E quindi questo è un lavoro che non va assolutamente perso Ma che va rafforzato nella condivisione Non soltanto delle proposte Ma dei segmenti che costituiscono una proposta La proposta della Caritas oggi La proposta della Chiesa Allora grazie a Nicola Ferrante Noi siamo alla politica Con Paduan alle prese con la cosiddetta manovrina Di primavera Su di lui crescono le pressioni In attesa dell'incontro di oggi pomeriggio Con il governatore di Banca Italia Sono i comuni a chiedere fondi Domani infatti è a rischio la chiusura dei bilanci di alcune grandi città Come Rova, Milano e Torino Augusto Cantelli No all'aumento dell'IVA Ad una settimana dalla presentazione in Parlamento Del documento di Economia e Finanza Tuttavia ancora non si trova un punto d'intesa Nella maggioranza per i tecnici del Ministero dell'Economia L'obiettivo fondamentale resta quello di disinnescare Il rischio delle clausole di salvaguardia Già rinviate con la manovra dello scorso anno Complessivamente tuttavia l'impatto della legge di stabilità Dell'autunno prossimo potrebbe essere di circa 20 miliardi di euro Ma a questi vanno ad aggiungersi 3,4 miliardi Necessari per la manovrina di aggiustamento dei conti pubblici Richiesta dall'Europa e anche in questo caso Emergono divisioni nel governo Scartata la possibilità di un aumento dei carburanti Considerata molto impopolare In vista di un ritorno alle urne Si lavora di interventi limitati al minimo Rassicurano da via 20 settembre su alcol e tabacchi Per incassare almeno 300 milioni L'obiettivo politico dell'intervento economico Tuttavia resta quello di non dare comunque la percezione All'opinione pubblica di un aumento del livello Della tassazione già particolarmente alto Mentre cresce la preoccupazione per la chiusura dei bilanci Soprattutto delle grandi città previste per domani Milano, Torino e Roma Denunciano difficoltà nella chiusura del bilancio Cambiamo argomento Andiamo in Sicilia La ipotesi di reato mossa contro il vescovo di Mazzara del Vallo Domenico Mogavero Già indagato per un'altra vicenda Adesso è accusato di truffa e abuso di ufficio Per i lavori di una nuova chiesa Per la sua realizzazione sono stati chiesti e ottenuti 3 milioni di euro in tutto Dalla CEI e dalla regione Sicilia Di questi 500 mila però sarebbero finiti altrove Indagate altre 7 persone Fra progettisti e personale di Curia Al vescovo si contestano false attestazioni Spiegheremo tutto Risponde il legale del presule Lasciamo l'Italia Ci trasferiamo in Messico Con la notizia del sequestro di un altro prete Purtroppo Si tratta di Oscar Lopez Navarro Che secondo informazioni della diocesi Riportate dal sito Il Sismografo Sarebbe stato rapito al momento del suo arrivo Alla casa sacerdotale della colonia Erra Dura dei Tampi Con il servizio di Francesco Durante È un sacerdote di 40 anni Padre Oscar Lopez Navarro Parco di San José Obrero L'ennesimo sacerdote sequestrato in Messico Il suo vescovo Monsignor Dibildox Martinez Ha chiesto a tutti i fedeli aiuto e preghiere La stampa locale ha riferito che il sacerdote Sotto la vigilanza dei suoi rapitori Ha compiuto una telefonata Probabilmente per rinforzare la richiesta Di un riscatto molto alto Appena martedì scorso Era stata confermata l'uccisione Del secondo sacerdote messicano Assassinato dall'inizio del 2017 Padre Felipez Altamirano Carrigio Della prelatura di Nayar Quest'anno il primo sacerdote ucciso in Messico Era stato Joaquin Hernández Sifuentes Scomparso il 3 gennaio Nella città di Saltigio E trovato morto nove giorni dopo In una periferia del comune di Parras Probabilmente strangolato Come riferito dalla polizia locale Nel 2016 altri tre sacerdoti Sono stati assassinati Con la stessa procedura Sequestro Scomparsa Uccisione Dal 2006 ad oggi Sono stati ammazzati 39 preti Con un impressionante escalation Negli ultimi quattro anni 16 sacerdoti uccisi E se andiamo indietro nel tempo Dal 1990 Il numero sale in totale A 46 Sequestri Estorsioni Torture Omicidi Profanazioni di luoghi di culto Minacce di morte E rintimidazioni Secondo il centro cattolico Multimediale messicano La situazione è allarmante Da vari anni Il paese americano È considerato Il più pericoloso Del mondo Per i sacerdoti E gli operatori Pastorali laici Fortemente impegnati Nella promozione sociale Nella denuncia Di reati Soprusi connivenze E nella lotta Contro le organizzazioni Criminali Oggi è stata presentata In sala stampa vaticana La lettera di Papa Francesco Per il nono incontro mondiale Delle famiglie In programma dal 21 Al 26 di agosto 2018 A Dublino In Irlanda Sul tema Il Vangelo della famiglia Gioia per il mondo In questo momento Vengono diffusi I contenuti del testo In cui Francesco scrive Sogno una chiesa in uscita Non autoreferenziale Una chiesa che non passi Distante dalle ferite Dell'uomo Una chiesa misericordiosa Che annunci il cuore Della rivelazione Di Dio amore Che è la misericordia E stamattina Casa Santa Marta Bergoglio Ha invitato a guardarci Dall'inseguire Fantasie e falsi idoli Solo Dio Ci ama come un padre E ci attende sempre Ha detto il Papa Prendendo spunto Dal libro dell'Esodo Per soffermarsi Sul sogno E le delusioni di Dio Dimenticare Dio Che ci ha creato Che ci ha fatto crescere Che ci ha accompagnato Nella vita Questa è la delusione Di Dio Aggiunto Francesco Anche oggi Ci farà bene Chiederci Se ci allontaniamo Dal Signore Per incorrere Gli idoli E la mondanità La sorpresa Sarà Che lui Sempre ci aspetta Come il padre Del figlio Prodigo E siamo giunti Al termine Di TG2000 O meglio Siamo a terza pagina Che oggi ci porta A Milano Per vedere Una mostra Sui promessi sposi Molto ma molto Particolare Buona visione Telegiornale torna Oggi pomeriggio Alle 18.30 Buona giornata Siamo a terza pagina